Musica 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 Voi siete Claudia Larissa Dett e Nicoletta Portea E siete qui convenute per la celebrazione del vostro matrimonio? Ora l'avventura dell'articolo 29 della Costituzione della Repubblica La Repubblica La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale introdata sul matrimonio Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei gorgi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia di vita familiare Signora Claudia Larissa Dett Vuole unirsi in matrimonio con la più presente Nicoletta Coteano? Signora Nicoletta Coteano Vuole unirsi in matrimonio con la più presente Claudia Larissa Dett In seguito In seguito alla vostra risposta affermativa io, Alessandro Azzolino sulla base degli articoli 329 della Costituzione italiana mi dichiaro ora unite in matrimonio Nicoletta Coteano Azzolino Azzolino Applausi Morocco Parla